In questo momento conta questo, più di qualsiasi discussione interna e a me questo interessa perché alla fine la gente ci vuole vedere protesi all'unica cosa che gli interessa, che l'Italia cambi registro, che questo governo se ne vada e che questo Paese possa tornare a crescere e a dare speranza ai cittadini. Francamente, cominciare qualsiasi discussione, più con le discussioni interne, con questa tensione e l'interesse del Paese lo trovo sbagliato. Noi dobbiamo guardare avanti e dare a questa discussione un orizzonte costruttivo, sapendo che alla fine vincerà chi vincerà nel Paese, chi parlerà di più al destino di questo Paese e lo farà nei fatti, perché se c'è una cosa che va cancellata in questo momento è un'idea di politica fatta solo di slogan, di promesse, è stata quella che Berlusconi ha portato avanti, ridando alla politica la giusta dimensione, cioè quella in cui agli slogan devono corrispondere anche i fatti. Questo è il nostro punto, perché se no il Paese non si risolverà. Oggi nel Paese c'è bisogno di un'assunzione di responsabilità fatta di fatti precisi. Grazie. 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 Grazie.